Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Sto provando le nuove impostazioni della webcam per vedere come viene Stavolta cerco di festare l'obiettivo Non sono molto abituato a guardare la webcam Se avete fatto caso negli altri vlog Guardate un po' di là Lo sto facendo di nuovo Sono un po' matto Comunque È il primo dell'anno E volevo condividere con voi questa Lo sto rifacendo Sto guardando Invece di parlare Guardare lì Ok dicevo È il primo dell'anno E volevo condividere con voi questa Oddio questo piccolo traguardo Se così vogliamo chiamarlo Lo sto fissando Lo sto fissando Lo sto facendo Oddio posso guardare un altro video di nuovo Questo piccolo traguardo che posso dire è un anno Che stiamo insieme Oddio sì Cioè chi Chi ho trovato da poco Chi mi segue da tanto Chi Chi non mi se caga di streccio Chi guarderà questo vlog Chi è sto deficiente Che non riesce a guardare l'obiettivo Che cazzo disturbi psicologici E motori ha Comunque Lo sto rifacendo Niente Vabbè Volevo ringraziare tutti quelli che mi seguono da un anno E anche quelli che mi seguono adesso Perché ovviamente non possono ringraziarli Mi fa piacere ragazzi È il primo anno Si può dire un anno intero su YouTube Cazzo Dici cazzi Volevo far coincidere il 40.000 iscritti Con l'inizio dell'anno Purtroppo YouTube non mi ha premiato Magari Devo dire Il mio contenuto non è così interessante Ma Non cerco la massa Non cerco la foglia Gli iscritti che sono giusti Sono quelli che cerco Almeno riesco a gestire i commenti Mi fa piacere che lasciate mi piace Tutto quanto Vi ringrazio tutti Grazie a tutti ragazzi Non è un ciao a tutti Ma oggi è un grazie a tutti ragazzi Grazie Grazie tante Vi saluto Ci vediamo con il prossimo video Grazie a tutti Spero che sia venuto bene Grazie a tutti Non so che sto facendo Vabbè dai Cominciamo Facciamo un bel video Carino Con i capelli e lei Cazzo Ok Sono pronto Vado Non ci siamo ancora No Non sto per se lo metto alla fine del video Come faccio di solito Tanto non taglio mai niente io Registro sempre tutto quello che faccio Non ci sto mica con la testa Devo dare più colore alla camera Aspetta Aspetta Come faccio Come faccio Per il photoshop Dopo il controllo della webcam Non mi piace mica Cioè voglio vedere se è possibile Uno zombie sembra Uno zombie Preferenze No Controller webcam Opzioni webcam Opzioni webcam Costazioni avanzate Ok Intensità colore Ora sono più colorato Troppo Troppo vero Contrasto Troppo Adesso è il giusto Se devi vedere bene Il mio volto Troppo contrasto Eh Malata Drogata Però i colori sono intensi Così Ok Vediamo come viene Dai 3 2 1 11 11 11 12 12 13